Domenica prossima, 19 dicembre, al Palatagliate, va in scena il Basket Day, la manifestazione promossa dalla Croce Verde insieme al Basketball Club Lucca. L'evento è stato presentato dal presidente della Croce Verde Massimo Borella e dal presidente del Basketball Club Matteo Benigni. L'appuntamento è a partire dalle ore 15 con sfide sportive per bambini e ragazzi alternate a momenti di intrattenimento. Poi alle 18 la gara di Serie C Gold tra Basketball e Cuspisa. È un pomeriggio all'insegna del gioco del basket ma con una finalità estremamente importante che appunto tutto il ricavato di questo pomeriggio di sport verrà devoluto al nostro sodalizio, appunto la Croce Verde di Lucca. Nella parte iniziale del pomeriggio verranno coinvolti anche i ragazzi e le famiglie dei ragazzi anche con una piccola raccolta di beni alimentari che andranno ad incrementare quelli che sono i nostri pacchi della spesa nel nostro banco alimentare. Quindi un ringraziamento sentito a tutto lo staff organizzativo del basket maschile Lucca e un ringraziamento anche a tutti quelli spero tanti che parteciperanno vi ripeto domenica 19 dicembre dalle 15 al palazzetto dello sport di Lucca.